L'USB denuncia la tardiva sanificazione e l'inefficacia dei protocolli anticovid all'interno della Sevel di Atessa, dove, dicono i sindacalisti, ci sono 15 casi accertati ma non sono stati effettuati i tamponi di controllo a tutti i lavoratori della Ute di appartenenza dei positivi al test. L'USB chiede la convocazione da parte della prefettura di Chieti di Sevel e degli enti di controllo in materia di sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro per aprire un confronto con il sindacato circa le criticità che possono verificarsi in una situazione così complessa e che richiede la massima attenzione e trasparenza. L'USB ricorda di avere già espresso da tempo tutte le sue perplessità circa l'ultimo aggiornamento del protocollo anticovid adottato in azienda per prevenire la possibilità di contagio. Tale aggiornamento, dicono dal sindacato di base, comporta un abbassamento del livello di guardia nella prevenzione della pandemia, tanto che è stata inviata una denuncia al servizio ispettivo della ASL all'ITL e per conoscenza alla procura di Lanciano. L'USB ha anche chiesto alla direzione aziendale di ripristinare i 10 minuti per la sanificazione delle postazioni di lavoro, di rallentare la velocità delle linee e di aumentare il livello di dissaturazione per evitare assembramenti durante il lavoro. Ma la cosa che preoccupa di più il sindacato è l'adeguamento delle procedure alle disposizioni previste dagli ultimi dpcm perché un lavoratore con un familiare in attesa di esito al tampone richiesto dalla ASL può recarsi al lavoro esponendo così i colleghi a possibilità di contagio.